A Mardan, nel nord del Pakistan, una motobomba guidata da un kamikaze contro un ufficio dell'anagrafe fa decine di morti e feriti. La parcializzazione dell'universo talebano non smette di produrre lutti, perché stavolta l'atto di sangue è stato rivendicato dal gruppo Jamatul Akrar, scissione del movimento talebano Tehrej e Taliban. Sono oltre 27.000 ai civili, secondo il portale South Asia Terrorism, morti in attacchi terroristici in Pakistan dal 2004. Il fenomeno dei gruppi, che cercano di ritagliarsi uno spazio nell'ormai composito universo talebano, si sta verificando anche nel vicino Afghanistan. Per questo i due paesi stanno cercando di collaborare, ma senza grandi risultati, almeno finora. Il governo ha lanciato una imponente offensiva antiterrorismo in queste settimane, ma i gruppuscoli talebani continuano a compiere atti contro la popolazione civile.